Ben trovati a questa puntata di Senza Sconti, la trasmissione che non le manda dire a nessuno e soprattutto che non fa sconti a nessuno. Questa sera non faremo sconti all'onorevole Mario Borghezio, eurodeputato della Lega Nord. Buonasera Borghezio. Buonasera a tutti. Anima delle più controverse della Lega Nord, ecco, e anche tra i politici italiani. Onorevole, lei non le manda mai dire a nessuno, quindi tantomeno questa sera. Certamente. Ecco, pronto a dire tutta la verità? Parola di scauto. E allora cominciamo subito con la nostra raffica di domande. Borghezio, Matteo Renzi è un buon Presidente del Consiglio? Glielo ho detto in faccia al Parlamento Europeo, è un pagliaccio, ma mi affido per l'occasione a Marinetti, un cretino con lampi di imbecillità. Eh, ma è possibile che non stia facendo niente di buono proprio? Non sta solo promettendo, è una sola, come dicono a Roma. Io ormai ho un vasto elettorato romano e comincio a parlare anche un po' di romanesco. È una sola. E perché, scusi allora, gli italiani hanno dato così tanto consenso alle europee? Perché gli italiani, che sono bravissimi, intelligenti, industriosi, ne sanno una più del diavolo, quando vanno a votare ascoltano magari l'ultimo imbonitore di piazza e si fanno spesso ingannare e cadono spesso in questi tranelli. Ma oggi molti di quelli che hanno votato, come molti di quelli che hanno votato per Grillo, sono delusi e la prossima volta anche da Roma in giù voteranno per la Lega. Mi scusi, lei dice l'ultimo imbonitore, vuol dire che fino adesso l'imbonitore vero è stato Berlusconi? Ma l'ultimo imbonitore della serie, ce ne sono stati tanti che hanno promesso delle cose e sotto certi aspetti lo è stato anche Berlusconi, sotto altri no. Mi descriva con degli aggettivi i ministri Madia e il ministro Boschi? Glielo definisco modificando leggermente la nostra Costituzione. L'Italia è una repubblica fondata sulle belle fighe al governo. Ma scusi, oltre che belle non sono anche brave? Sotto il vestito, a parte la bellezza, niente di contenuti, niente di esperienza, niente di politica. Hanno mandato a governare il paese delle belle ragazze che sono solo delle belle ragazze. Ma le avevate mandate anche voi quando eravate al governo con Berlusconi? La Lega ha sempre mandato delle persone competenti, abbiamo avuto dei ministri, pensiamo al ministro dell'Interne, pensiamo al ministro della Giustizia, gente seria preparata che ha lasciato un certo segno, per quanto si possa lasciare segno nei governi italiani. Per riprendere i termini di Borghezzo, belle fighe leghiste, ma un pochino brave non ne avete? Sì, certo. Chi? Io non me ne ricordo. No, al Parlamento italiano ci sono state la Lussana, l'attuale direttrice della Padania, che è protagonista di belle trasmissioni televisive. sono belle donne che sono anche intelligenti e preparate. Noi selezioniamo abbastanza bene la classe politica, si può sempre far di meglio. Siete lei un razzista? Veda lei. Vedo io, veda lei, me lo dica. Vedano loro. Io penso che essere razzisti significa predicare la superiorità e soprattutto l'inferiorità delle altre, io preferisco usare il termine etnia, comunque. Lei non lo fa ogni tanto. Sono un etno non federalista, io credo, sono un differenzialista, credo nella differenza delle etnie e soprattutto credo nel dovere addirittura metapolitico, più importante della politica, di salvaguardare l'identità del nostro popolo, dei nostri popoli europei. Sai che non l'ho capito, onorevole, però va bene. No, gliela spiego meglio. Io credo che ci sia un'identità minacciata, quella dell'uomo europeus, da questa immigrazione e invasione che ha per effetto, anche con i matrimoni eccetera, di imbastardire la nostra etnia e quindi di privarci della nostra identità etno-culturale. No, io credo che questo non sia razzismo, poi se qualcuno lo giudica tale non me ne fotte niente. Senta, meglio un vicino di casa nero, rom o gay? Guardi, sto alla mia esperienza personale, meglio vicini di casa che non rompano più i coglioni. Quindi chiunque esso sia, l'importante è che non rompa i coglioni, come ha detto lei. Certo. Senta, a questo proposito, la Lega Nord ha nominato un nuovo responsabile dell'immigrazione di colore, Tony Vobi, dico le piace, ha fatto una bella scelta la Lega? Direi che ha fatto un'ottima scelta, intanto è un imprenditore, una persona che non solo che lavora, e ce ne sono tanti di quelli regolari che lavorano, e tra l'altro quelli iscritti da noi tutti lavorano, tutta gente seria. Siamo un uomo di colore, Borghezio. Un uomo di colore che si è perfettamente integrato e che deve contribuire a dare la linea e suggerimenti sulla politica dell'immigrazione. Chi meglio di una persona che ha sudato sette camicie per farsi una posizione, oggi ha un'azienda condivendente. Ma scusi, allora anche come quando era stato ammesso il ministro Chienge per l'integrazione? Era una donna di colore, chi meglio di lei? Commentare il lavoro politico e governativo della Chienge è come sparare sulla croce rossa. Io sono un buonista da questo punto di vista, sulla croce rossa non sparo, mi pare che i risultati siano sotto gli occhi di tutti, zero assoluto. Quindi farà di più Tony Vobbi per la Lega o quello che ha fatto la Chienge fino adesso? È un paragono improponibile perché il nostro è uno che si è fatto una posizione da sé, non attraverso le solite camarille, aiutini vari, sostegni di partito. È un uomo che si è fatto una posizione da solo e oggi presta un po' del suo tempo alla politica. Borghezio, Lega 2.0 che cosa vuol dire? Che io non l'ho mai capito. Ma è una di quelle tante espressioni che secondo me della modernità, di certa comunicazione, che non si capisce bene perché siano passate così. Secondo me è una suprema cazzata. Quindi la Lega è rimasta la Lega di prima? La Lega... Questa 2.0 non esiste? La Lega... Ecco, io non sapevo che lì si riferisse alla Lega. Sì, Lega 2.0. Io credo che sia importante che la Lega rimanga quella che è stata all'origine, cioè intanto un grande sindacato delle popolazioni del nord, che abitano nel nord qualunque sia la loro origine regionale o nazionale o etnica. E poi che rimanga un altro punto fondamentale, rimanga un partito degli onesti, un movimento che vuole risanare e correggere le strutture della politica e colpire i suoi. Io l'ho fatto, perché sulla questione degli scontrini sono partito io, non ho aspettato i magistrati. Mi sono mosso prima io. Giustiziere Borghezio. No, giustiziere. Vigilare perché se voi... Quindi i suoi vigilano poco, hanno vigilato poco? In quel caso sugli scontrini non hanno vigilato un cazzo e fanno bene i magistrati che fanno pagare degli errori commessi tutti senza guardare in faccia nessuno. Io la penso esattamente come loro. Qual è secondo lei l'unica strada per fermare l'ISIS oggi? Una bella crociata, come i vecchi tempi, sul posto, sul terreno, portando tutto quello che necessita, ma naturalmente imponendo ai ricchi paesi arabi di pagare loro le spese, di mandare loro i loro uomini a calpestare quei difficili territori di guerra e far vedere che, a differenza di quello che è stato fino adesso, non sono loro dietro le quinte che finanziano l'ISIS. Quindi ci mettano la faccia, ci mettano gli uomini e ci mettano anche il necessario tributo di sangue perché questa è una guerra che i loro co-religionari dell'ISIS, che non c'entrano niente con l'ISAM regolare e tradizionale, muovono contro di noi, contro i cristiani, contro i crociati. Loro dicono che sono contro i crociati, noi dovremmo fare una bella crociata. Ok, la crociata, però dice che ci mandassero loro gli uomini, noi cosa facciamo? Noi diamo una manuccia, noi diamo una mano, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista strategico, una bella mano, ma il loro territorio se lo libera loro. A noi di quello che succede in quei territori, a noi, dico noi della Lega, non ce ne frega proprio niente, siano loro a liberare il loro territorio da questo veleno pericolosissimo per tutto il mondo che è l'ISIS. Ma secondo lei la religione musulmana è civile quanto quella cristiana? Io credo, essendo un fedele seguace delle idee, della dottrina di René Guénon, nell'unità trascendentale di tutte le religioni. Quindi per me è una religione come le altre, sacra come le altre. Senta, lei ha mai avuto degli amici gay? Certo. Ma ha mai avuto dei problemi con loro? No, nessun tipo di problema. Ho avuto gli stessi problemi che ho avuto con gli altri amici. Nella politica e anche nel mio movimento ho avuto amici che al momento buono mi hanno pugnalato. preferisco temere questi, questi falsi amici. Questi sono quelli pericolosi. Ma magari hanno anche tentato alle ultime elezioni di mandarmi allo sbaraglio un territorio difficile. Ma Borghezio è sopravvissuto. Senta, onorevole, secondo lei l'omosessualità va curata? Beh, credo che sia una fesseria. C'è qualche omosessuale nella Lega? Ma queste sono cose che vanno da sé. Ci sono percentuali di persone con vari gusti sessuali in tutti i movimenti, in tutte le associazioni, in tutte le realtà. Quindi non è da escludere, certamente. Ma se le invitassero a Gay Pride andrebbe? No, certamente, perché la ritengo un evento piuttosto grottesco. Grottesco addirittura? Sì, certo. Ma è per, diciamo così, manifestare, richiedere dei diritti? I diritti si chiedono in maniera seria e io credo che questo tipo di manifestazioni non aiuti certamente chi è portatore di diritti. Qual è il peggior difetto di Matteo Salvini, il segretario della Lega Nord? Il peggior difetto è di lavorare troppo, perché noi che, io sono uno di quelli che collabora forse di meno, ma tutto l'ambaradan della Lega che deve collaborare con lui su da non sette, settecento camicia. Lavora persino troppo. Ah, quindi il suo difetto è lavorare troppo. E il suo pregio? Di lavorare troppo. Allo stesso, si intende? Senta, può essere il prossimo leader del centrodestra, Matteo Salvini? Io spero che diventi leader di una grande Lega, forse anche, come suggerisce Ilo Diamanti, di una grande Ligue Nazionale, l'esempio della vicina Francia, dove un personaggio spettacolare come Marine Le Pen ha creato una grande Ligue Nazionale, si chiama Front, ma in realtà è una grande Ligue Nazionale, che la scelta geniale di Bossi di chiamare Lega la Lega rappresenta proprio questo, un grande rassemblement, la capacità di riunire attorno a alcune idee fondamentali, valori fondamentali, tutti quelli che vogliono lavorare per il bene del loro territorio. Noi siamo partiti dal nord, ma oggi la Lega a guida Salvini parla a tutto il paese e fa bene. Ecco, come leader di un partito meglio Marine Le Pen o meglio Matteo Salvini? Beh, in Francia Marine Le Pen, in Italia certamente Salvini. Ma questa Marine Le Pen non è un po' troppo di destra? La potremmo prendere qui in Italia, diciamo così, una figura così? Io penso che ci sia molto da imparare dal miracolo fatto dal fronte nazionale, non solo lei, c'è tutto un mondo, una bella realtà anche di test e pensanti, che ha dediabolizzato questo movimento per certi errori di percorso. Non sono nazisti, non sono fascisti o sono nazisti, sono fascisti? Io credo che sia un grande rassemblement nazionale, nel quale convergono, io leggevo proprio di recente delle interviste nella Francia Profonda, militanti ex socialisti che dicono, beh, io adesso voto fronte nazionale e mi sembra di essere ancora nel vecchio partito socialista. Certo, voglio dire, la difesa degli interessi nazionali contro il mondialismo, contro le scelte dell'austerity di Bruxelles, beh, sono temi che ricordano più una certa vecchia sinistra onesta, francese ma anche italiana, e adesso sono tutti asserviti all'Europa dei banchieri. Onorevole, scusi, ma secondo lei, visto che abbiamo parlato di Salvini, secondo lei Salvini, candidandola a Roma, ha provato a farla fuori? Salvini no, non Salvini. Eh, però è lui il segretario della Lega Nord. No, è stata la decisione, è stata del Consiglio federale, quindi... Hanno provato a farla fuori? Certo, e se la sono presa in quel posto. Eh, che cosa ci vuole per far fuori Borghezzo dalla politica? Sparargli in faccia. È l'unica soluzione? Penso di sì. Ma non crede che magari... Oppure aspettare gli eventi, perché io ho già una bell'età, e non intendo certamente occupare poltrone o incarichi oltre il necessario, perché a un certo punto nella vita politica bisogna lasciare spazio a nuove generazioni, magari trasmettendo la propria esperienza, ed è esattamente quello che io intendo fare. Mi piacerebbe fare, nella mia fase più anziana, mi piacerebbe fare il bibliotecario di Casa Paudo. Una bella realtà di... Ah, Casa Paudo. Sì, magari anche a Roma, ci sarà magari una bella casa anche a Milano. E allora hanno ragione chi dice che Borghezzo è nazista, fascista, o cose di questo genere. Si offende? No, io non mi offendo mai. L'importante è che non dicano, non possono dire che sono un disonesto. Le accuse ideologiche... Quindi nazista, fascista sì, ma non disonesto. Credo che sia un mio merito, perché ho contribuito alla de-diabolizzazione di questo gruppo, che è fatto di ragazzi seri, di persone anche, non tutti giovani, anche della mia età, e che credono in certi valori e che combattono per le loro idee senza soldi, portandoci una grande voglia di fare e un grande spirito di servizio verso il paese. Non sono degli estremisti, ma sono dei grandi bravi ragazzi, come ce li descrivi lei. Io ho visto ieri, per esempio, tutta la politica italiana se ne è fotte della perdita di un grande patrimonio industriale come l'acciaio di Terni. Ero a Terni e ho visto questi ragazzi combattere per difendere l'acciaio di Terni. Una bella battaglia nazionale che qualcuno potrebbe anche definire fascista. Io intendo combattere in Europa con lo stesso entusiasmo con cui la combattono questi giovani di Casa Paola. Quindi dei bravi ragazzi, gran bravi ragazzi. Certamente. Senta, onorevole, secondo lei Mussolini nella sua carriera politica ha fatto qualcosa di buono? Ha fatto alcune cose non di buono, per il resto ha fatto molte cose buone e alcune ottime. Per esempio, qualcuna di quelle ottime? Pensiamo tutta la politica sociale. Il nostro ha trasformato la vecchia realtà italiana in un paese moderno, anche e soprattutto dal punto di vista sociale. Tredicesime, viaggi colonie per le famiglie non ambienti, eccetera. E poi una grande unificazione del sentimento, dell'appartenenza al sentimento di comunità nazionale. Questo è quello che oggi è venuto a mancare. E forse proprio la Lega, fra virgolette, considerata all'origine anti-italiana, oggi potrebbe avere, diventando una grande Lega nazionale, contribuire dal nord e dalla credibilità che ha acquisito nel suo territorio d'origine, alla realizzazione di una grande comunità politica nazionale, mantenendo la sua identità. Quindi lei mi sta dicendo che la Lega dovrebbe ispirarsi un po' alla politica di Mussolini? No, io sto dicendo che la Lega dovrebbe fare il capolavoro politico che ha fatto Marine Le Pen. Diventare il movimento e anche sotto certi aspetti il partito rappresentativo di tutta la comunità nazionale che vuole progredire, che non vuole essere serva dei diktat di Bruxelles e della signora Merkel, che non vuole essere invasa dall'immigrazione e che vuole la sua sovranità monetaria contro l'euro, alimentare. Tornando a Mussolini, visto che lei ha detto che ha fatto poche cose cattive e molte buone, dovendo bilanciarle un voto all'operato politico di Mussolini, da 1 a 10 si intende? Beh, senza gli errori un 10, ben meritato senza gli errori, e tenendo conto degli errori un 8. Ah, quindi 8? Quindi comunque lo salva politicamente Mussolini? Certamente, Mussolini verrà ricordato come uno statista di primo ordine. Io a suo tempo lo definì un grande statista padano e ho inaugurato, sono stato il primo politico, forse anche l'unico, a Rivello Nazionale, a inaugurare il restyling della Casa Natale a Predappio e non escludo quest'anno, in occasione delle cerimonie nei giorni precedenti il 28 ottobre, di fare un saltino a Predappio, visto che oltretutto un vecchio amico che gestiva un po' tutto l'ambaradan, dei ricordi, eccetera, è venuto a mancare, è stato sempre un mio sostenitore, un perugino, di cui voglio ricordare la memoria, non c'è più lui e mi sembra un po' doveroso esserci almeno quest'anno, probabilmente ci andrò. Non vorrà mica dirmi che a casa magari ha qualche, diciamo così, reliquio, qualcosa, un mezzo busto, una foto di Mussolini? Io sono un collezionista di cartaceo, ho molto materiale e ovviamente l'autografo ce l'ho, come ho anche l'autografo di Togliatti. Però la grafia, a me piacciono molto i documenti autentici e devo dire che certe grafie, quelle di Mussolini e quella di D'Annunzio, che sono molto simili, mi piacciono molto, sarà perché io scrivo male. Chi ha fatto peggio nella storia? Hitler o Stalin, secondo lei? Ma certamente tutte e due hanno fatto qualche cosina, nel caso di Mussolini, qualcosina di male, e molte cose buone. E nel caso di Stalin moltissime cose negative e qualche cosa positiva. Oggi vediamo come Putin riesca a mantenere, o almeno si sforzi di mantenere, della Russia un ruolo di grande potenza mondiale. Quindi tra i due chi ha fatto meno peggio o chi ha fatto meglio? Certamente, la storia premia sempre i vincitori. Hitler ha perso e quindi ovviamente viene condannato, almeno attualmente dalla storia. Certo sarebbe sciocco, proprio ieri il Figaro Litterer dedicava due pagine agli aspetti sconosciuti che gli storici americani stanno riscoprendo del nazionalsocialismo e scoprono molte cose. Per esempio che il grande teorico ecologista americano è stato uno degli ispiratori insieme a Ford. Quindi ci sono degli aspetti che devono ancora essere conosciuti e valutati. Certo, gli orrori della guerra e specialmente la pagina dello sterminio degli ebrei, quale che sia il loro numero, rappresentano un fatto che deve essere condannato. Onorevole Borghezio, Francesca Pascale ha detto sì, che è la compagna di Berlusconi, lo sa bene, ha detto sì alle nozze gay. Lei? Guardi, io non invidiavo prima Berlusconi, nonostante quando era un uomo potentissimo ed è sempre stato, è tuttora un uomo ricchissimo. Si figuri se lo invidio adesso. Ah, però adesso andando nel merito, Onorevole non mi ha risposto, non lo invidia per la compagna e mi fa piacere. Ma andando al merito, lei dovesse decidere? Voterebbe sì o no? Mi scusi, su cosa? Sul tema delle nozze no, voto no. Quindi anche per quanto riguarda le adozioni, perché il tema è anche lo stesso? Certo, voto no perché lo ritengo il presupposto giuridico e anche ideologico per quello. Nulla impedisce di consentire, credo che già oggi si consentano con gli attuali strumenti normativi, si possono ovviamente, forse si devono migliorare, di tutelare le convivenze anche di persone dello stesso sesso. Il matrimonio è un'altra cosa e non solo da un punto di vista strettamente religioso, io sono un cattolico, ma anche da un punto di vista della nostra concezione giuridica tradizionale. Quindi il matrimonio è l'unione fra un uomo e una donna. Onorevole, quindi se lei mi ha detto no per le adozioni alle coppie gay, se una coppia lesbica, mettiamo così, dovesse avere un figlio, bisognerebbe lasciarglielo, bisognerebbe toglierglielo, come lascerà questo figlio? Io non sono per l'invasività dello Stato in cose di questo genere, certamente, essendo uno dei milioni di italiani che hanno avuto entrambi i genitori, hanno avuto la fortuna di avere entrambi i genitori, beh, dico che avere una mamma e anche un papà è fondamentale per tutto, per la crescita. Ma se dovessere questo bambino che ha due mamme, come crescerà? Eh, beh, quello lo possono dire meglio di me gli psicologi, eccetera. Credo che sulla questione prevalgano le preoccupazioni di coloro che dicono, appunto, che sia meglio e forse sia indispensabile per la crescita e per l'equilibrio. E poi ci può essere anche il caso di una mamma e di un papà, in cui il papà è un delinquente, un assassino, un drogato, eccetera, eccetera, quindi bisogna anche andare a vedere le situazioni. Però in linea di principio mi sembra evidente l'importanza che un bimbo o una bimba abbiano un papà o una mamma. Onorevole, ma ha fatto bene la regione Lombardia quest'anno, guida Lega, per volontà di un leghista a concedere il patrocino al Gay Pride? Ma sa, i politici, intanto è un leghista che ha preso un'iniziativa, voglio dire, personale, che naturalmente io non approvo. Però se nell'ambito di un movimento ci possono essere sensibilità diverse, questo dimostra che questo movimento, voglio dire, è polifonico. E la Lega deve rimanere... Beh, io certo, glielo ho già detto prima, nell'altra domanda non lo approvo, ma neanche mi straccio le vesti. L'importante è che la linea della Lega sia chiara e la linea della Lega rimane chiara anche su questo tema. Onorevole, ha mai provato a perdere peso? Beh, come tutti quelli tendenti all'obesità, o già molto obesi, sono stato anch'io protagonista di vari esperimenti. Ritengo che in un certo senso... Fallimitario o qualcosa ci è mai riuscito? Come tutti li ho persi, li ho ripresi, ma devo dire sinceramente, non lo considero, se non dal punto di vista medico, sanitario, un grosso problema. Non me ne fotta assolutamente niente. Ah, quindi rimane così con me, non me ne fotta assolutamente niente. Certo, meglio stare un pochettino a dieta, ovviamente, soprattutto dopo una certa età, questo è evidente. Mi dia una definizione del popolo rom. Beh, intanto preferirei un'altra domanda, perché per un motivo molto chiaro... Ha parlato di etnia fino adesso? No, le dico sinceramente, perché tutte le volte che io mi esprimo su popolo rom, ci sono 4-5 associazioni con avvocati famiglici che mi fanno le cause, mi denunciano, per poi pretendere dei risarcimento milionari. Ecco, bene. Quindi nessuna risposta sulla definizione perché non vuole pagare? Ma lei ha avvocato, ha paura, scusa, avvocato? Beh, di queste cause... Vede, io le rare volte, io non quererò mai nessuno, le rare volte che io quererò qualcuno, perché mi ha dato dello spacciatore, magari ironicamente, mi dicono sempre che sono battuti ironiche, che bisogna sopportare, li assolvono tutti. E mentre ogni volta che uno di questi qui mi querela per mezza frase, detta magari in termini ironici, eccetera, eccetera, a me mi rinviano subito giudizio. E quindi, sa, mi sono fatto a corte, come dicono a Napoli, a corte. Ecco, lei mi ha citato il napoletano, è stato eletto a Roma, ha imparato una qualche canzoncina orinomanesco? Canzoncina, sa. Ma che ci frega, ma che ci importa, me lo sa fare. Non sono molto intonato, canto maluccio anche il Vapensiero, che è un bellissimo inno, molto meglio del Fratelli d'Italia. E quindi, se è proprio strappato, se posso, l'ho già fatto, posso dare un saluto nel mio modesto romanesco a tutti gli elettori. No, il saluto agli elettori non l'ho fatto neanche in campagna elettorale, quindi un ringraziamento a voi di Roma, ma avete votato e vi ringrazio tutti, siamo un grande popolo, dammo se da fa, perché qui con il governo Rezzi abbiamo tutti, lo sappiamo, quindi dammo se da fa e fammo dei pullman, perché il 18 a Milano c'è una grande manifestazione contro l'immigrazione e a Roma, a sette camini, in tante borgate ci rimandano e noi volevamo rispedirli a armittente. So a Lega, salvaci tu, hanno scritto i romani nel quartiere di Corcolle. Amici romani, l'avete votato in modo tenete. Salvaci tu, Salvini, salvaci tu. Salvini, Borghezio, senta, ripensando alla famosa foto di Bossi che mangiava la coda alla vaccinaria imboccato dalla Polverini, lei che gli viene in mente, scusi? Non mi farei imboccare dalla Polverini. Ma non è venuto un po' di volta stomaco? No, volta stomaco no, perché Bossi anche in tutte le situazioni, anche quella è sempre, non solo dignitoso ma anche simpatico, però non è stata una delle pagine più belle della storia della Lega e ce ne sono altre, specialmente con Bossi protagonista. Io non dimenticherò mai l'emozione fortissima che ho avuto su quel palco di Venezia nel quale è stata programmata il diritto della Padania all'autodeterminazione, dietro si sentiva il rumore del motoscafo della polizia che probabilmente erano pronti a impacchettarci tutti. Poi con intelligenza le autorità dello Stato hanno capito che non si ferma un popolo che manifesta per la propria libertà. Ma Bossi l'ha fatta qualche cazzata nella sua vita politica oppure no? Nella vita politica no, magari nella gestione di alcune cose familiari che sono entrate nell'amministrazione della Lega, non le voglio ricordare perché ormai hanno provveduto i giornali che nei bilanci degli altri partiti non scavano. E' una cosa che le ha fatto più male, da leghista. E sentire, gettare qualche ombra sull'onestà personale di Bossi che per me è un dogma e quindi siccome lo conosco profondamente sono contento di non aver reagito come avrei voluto reagire. Come avrebbe voluto reagire? Pesantemente. Pesantemente come? Pesantemente perché è come mi dicessero che era disonesto mio padre. quindi ho provato lo stesso desiderio di reagire. Ma parolaccio fisicamente onorevole, non ho capito. Se mi fossi trovato di fronte, ma grazie a Dio non mi sono mai trovato di fronte fisicamente, qualcuno che mi dicesse, mi avesse detto frequentando i politici la conseguenza temporum qualche volta traballa, di Bossi e quelle cose brutte che sono state dette in quei giorni, non mi sarei controllato. E ma nei confronti di Bossi anche qualche leghista non si è comportato bene? O no? Beh, ovviamente ha fatto male perché Bossi ha dei meriti storici. E' stato quello che Jean Mabir definisce un grande svegliatore di popoli. Questo è il vero merito. I meriti politici sono discutibili, relativi, possono essere giudicati, ma questo resta un merito storico. commenta politico. Ci ha fatto riacquisire a noi del nord il senso dell'appartenenza ad una comunità, il senso di dover lottare. Onorevole, ha mai fatto l'elemosino un barbone per strada? Agli italiani, il barbone italiano, o comunque chi chiede l'elemosino dell'italiano, il 99% delle volte sì, e non 50 centesimi, abbastanza generoso. Ma se è straniero? Se è straniero per principio no. Per principio? Certo, prima gli italiani. È il mio slogan elettorale con cui sono stato eletto Roma. Prima gli italiani. Quando un barcone di immigrati si ribalta nel Mar Mediterraneo, fa bene l'Italia andare a soccorrerli? Farebbe meglio l'Italia non lasciarli partire. Ci vorrebbe un governo che avesse un minimo di autorevolezza, come i governi francesi, i governi... Tutti quelli che a differenza di noi non si sottopongono a questo ricatto dei delinquenti scafisti. Quando incontra la Chiengi in Europa cosa fa? Cambia strada? Svolta? La saluta? Le dà la mano? L'ho salutata per primo, l'ho accolta io al Parlamento Europeo, ben sapendo che non farà certamente grosso danno perché lì si lavora seriamente. E non sta facendo niente quindi? Meno di quello che ha fatto il governo, quindi siamo tranquilli. Ecco, però scusi, si è aperto pochi giorni fa il processo a Calderoli per quella famosa uscita dell'Orango Tango, sulla somiglianza della Chiengi. Sbagliò Calderoli lì o no? Beh, mi è difficile criticare altri per espressioni dal sen fuggite che qualche volta sono capitati anche a me, non nel caso della Chiengi. E gli errori si pagano e purtroppo anche questo caso lo dimostra. Tuttavia c'è un esimente perché questa nomina fu da parte di quel governo una diretta provocazione alla Lega, cioè di fronte alla Lega che chiedeva provvedimenti seri e una politica seria di contenimento dell'immigrazione. Vabbè però, onorevole, adesso lei che la vede da vicino in Europa la Chiengia somiglia a? No, devo dire che la Chiengia tutto sommato non mi è per niente antipatica. Politicamente la considero modesta e sul piano personale non mi è antipatica anche perché la mia prima esperienza di lavoro è stata nel suo paese e quindi ho anche un certo rispetto, certamente, ma anche una certa simpatia per i cogolesi. Borghezio, di che colore sono le sue mutande? Certamente non Verdi e se lei vuole alludere a una pagina triste della politica leghista pievontese non mi tiro indietro. È una pagina che io condanno molto pesantemente, l'ho fatto nelle sedi opportune e sono ovviamente completamente estraneo e dico che di queste cose qui vanno archiviate velocemente. E chi ha sbagliato paga, nella Lega chi ha sbagliato paga e deve pagare. Secondo lei quindi è stato un errore al di là dell'aspetto giudiziario per la Lega non buttare fuori Roberto Cota? No, devo dire onestamente che non è stato candidato all'Europeo. Però non è stato mica scopato via come quando c'era Maroni che faceva polizia. Non è stato fucilato. Lei l'avrebbe buttato fuori Cota dalla Lega? Passi a un'altra domanda. Beh, questa risposta è già una risposta onorevole. Veda lei. Secondo lei nella Lega qualcuno ha rubato mai? In maniera considerevole e diciamo regolare nel senso continuativa. Qualche ladruncolo, la percentuale diciamo fisiologica possiamo averla anche noi. ma generalmente vengono individuati e vengono... Facciamo una buona azione di prevenzione e sarà quello che dovremo fare con grande attenzione quando ci inoltreremo come sta facendo Salvini con Energia nei nuovi territori, nell'Italia profonda. Onorevole, la Padania lei la legge? Abbastanza. Abbastanza o la farebbe chiudere? No, chiudere neanche da parlare. Telepadania? Telepadania è già chiusa quindi... Ha fatto bene? Beh, sono problemi di costi. Tutto quello che serve per veicolare le nostre idee è tutto utile, quindi anche Telepadania è stata utile. Ritengo molto più importante la Padania, il cartaceo e soprattutto quel grande strumento di democrazia e di comunicazione che è Radio Padania Libera dove lei o chiunque anche dopo questa trasmissione voglia telefonare e dire ah quel borghezio ha detto bene oppure ha detto malissimo, non lo censuro, lasciano parlare finché vuole. A proposito di aver detto bene e aver detto male, lei non ritiene di aver detto un po' troppe cazzate in politica? Ma qualche cazzata la dicono tutti, però credo di averne detto meglio degli altri e credo soprattutto che gli elettori abbiano avuto la consapevolezza che dico praticamente sempre quello che penso senza censure, sui Rom invece mi taccio. Ecco, se dovesse vedere una persona magari su un treno, borghezio, che spruzza del disinfettante su un sedile dove fino a pochi minuti prima c'era seduto un immigrato, una persona di colore, lei cosa penserebbe? E gli dico guarda, segui l'esempio di borghezio, farai strada nella vita. Ah quindi non rinnega neanche questo suo episodio? No, certo, ho risposto con una battuta, però quello è un episodio che rivendico totalmente perché... È recidivo borghezio? No, non l'ho più fatto perché era un po' una reazione a comportamenti veramente disdicevoli, di persone che esercitavano il mestiere più antico del mondo che facevano le loro... persino la pulizia dei loro simpatici piedini sui treni su cui viaggiavano i nostri operai pendolari e i nostri studenti e volevo richiamare l'attenzione delle cosiddette autorità che non facevano niente e modestamente... Però dice... Poi mi sono preso un sacco di insulti, però evidentemente questa iniziativa non era di rivelanza penale. E quindi adesso se su un treno invece dovesse sedersi a fianco a lei una donna col velo o cosa fa? Si alza, cambia posto, rimane lì, ci parla? Ma se ha soltanto il velo sono tranquillissimo e continuo magari a leggere il mio libro e se invece fosse un Burka totale, visto che sono stati accertati i casi di gente che gira col Burka e non erano donne chiamerei immediatamente alla polizia. Secondo lei Umberto Bossi, tornando appunto a Bossi, ha fatto bene o male a mettere il figlio Renzo al Consiglio regionale della Lombardia? Beh è stato... io credo che sia stata una decisione forse persino sfuggita al controllo di Bossi in ogni caso credo che lui per primo... Perché è come Scaiola che gli ha regalato la casa a sua esaputa? No, è un po' diversa. Hanno candidato Renzo a sua esaputa? È un po' diversa perché ovviamente il segretario si deve occupare anche all'epoca di tantissime cose. In ogni caso il primo che si è pentito di questa scelta che si è rivelata inopportuna ed è stato pesantemente danneggiato è proprio il povero Bossi. E questo non impedisce il fatto che forse la lezione è servita anche al ragazzo che io stimo e che è un ragazzo fondamentalmente pulito e onesto. Ma incapace nella politica? L'ambiente politico è un ambiente difficile nel quale è più facile ricevere oggi come oggi degli esempi negativi di quelli positivi. Politicamente parlando non era capace? Era un giovane inesperto. Ne abbiamo visti tanti di ministri, abbiamo detto in questo governo, l'abbiamo detto fino adesso. Sì, ma era un giovanissimo. Era un giovanissimo e quindi è caduto in errori nei quali ovviamente non bisognerebbe cadere neanche a 18 anni ma per i quali mi pare logico richiedere una certa indulgenza. Soprattutto per il fatto che a differenza di altri impegolati, in ben altre puttanate, si è prontamente dimesso lasciando tutto. Borghezio, con tutti gli anni che ha fatto in Europa, a quanto ammonterà il suo vitalizio quando lo lascia? Guardi, io non sono molto pratico. Credo che una specie di buona uscita che danno, che non aumenta molto la legislatura, la legislatura sia abbastanza consistente. Nel mio caso però penso di essermela meritata perché io ho sempre lavorato. Ma la cifra? Ce l'ha fatto un conto? No, penso che Bazzichi dovrebbe essere poco meno o poco più di 100.000. Ebbè insomma è una bella equità, però dice me la sono meritata. Io ho la coscienza tranquilla e so di essermi guadagnato alla pagnotta anche perché ho seguito un'indicazione che il vecchio Borsi ci ha dato fin dall'inizio. Si fa un solo lavoro, nessuno ti obbliga, avvocato, ingegnere, professore di candidati a Lega. Quando ti candidati a Lega fai un solo lavoro, fai bene il parlamentare H24. Io lo faccio H24. Quando andava a Pontida con le corna non sei mai vergognato? Ma io l'elmo celtico con le corna lo considero il mio copricapo naturale. E mi dispiace se mi fosse venuto in mente me lo sarei portato anche oggi. Non sei mai sentito un cretino con l'elmo con le corna? No, di cretini nella politica ne ho visti tanti. Una bella manifestazione in cui l'ho indossato davanti a Montecitorio con gli amici della Col di Retti. Devo dire che è piaciuto a tutti. Più che altro ho dovuto difenderlo perché lo volevano in regalo. Ha suscitato simpatia e grazie alla mia mediazione. Non li volevano ricevere alla Commissione e li hanno ricevuti. Onorevole, chi ha rovinato secondo lei la Lega? No, la Lega non è rovinabile perché è inossidabile. Qualche dannetto l'abbiamo avuto ma ci siamo. Ma per esempio il famoso investimento dei diamanti in Tanzania, lei è stata una stronzata? Io penso che nell'amministrazione dei denari, dei finanziamenti pubblici i partiti ne abbiano fatti di ogni e forse la Lega è quella che ne ha fatti di meno e che bisogna voltare pagina e che sui finanziamenti ai partiti che a mio avviso sono non solo utili ma forse necessari per garantire la democrazia ci debbano essere dei controlli molto seri come quelli che fa per esempio il Parlamento europeo. Basta controllare. Se le reganassero una bandiera dell'Italia per il suo prossimo compleanno, che le farebbe? Il mio prossimo compleanno è abbastanza vicino perché sono un dicembrino, prima decada del Sagittario e la userei immediatamente per effettuarla al Parlamento europeo e ricordare a quelli che ci rappresentano nel semestre italiano che dovrebbero avere il coraggio di mettersi a urlare per difendere i nostri luoghi. Qui non la brucerebbe come qualcuno della Lega aveva fatto in passato? Beh, qualche ragazzo della Lega può aver fatto anche una cosa di questo genere, non credo che ci siano molti casi, evidentemente... Ma non si fa, Borghezzo, lo dica, non si fa. Beh, lo dice anche la legge. Io non l'ho mai fatto e penso... Beh, ma lei ha fatto talmente tante cose che magari la legge dice no? E penso che non lo farò mai perché io sono figlio di un volontario di guerra e quindi avrei un certo timore che dall'alto qualcuno mi manderebbe una bella punizione. Fanno bene a bombardare la Siria, secondo lei? Facevano meglio a non invaderla. Le chiedo un'altra cosa riguardo alla religione musulmana. Secondo lei il Corano che libro è? È un libro sacro. È un libro che fonda una grande religione e è un libro sacro, ovviamente, che tutti devono rispettare. Che cosa pensa dei cittadini italiani, degli italiani si intende? Che sposano, magari anche un po' avanti nell'età, una straniera o uno straniero? Cazzi loro. Solo questo? Eh sì, non è certamente una risposta ben augurante. Ha mai rubato qualcosa, Borghezzo, lei? Ma fino adesso no, ho dei ricordi un po' imprecisi sull'età, sul periodo della scuola elementare. Eravamo addirittura in tre perché erano arrivati molti ragazzi che arrivavano da Rovigo, era l'epoca del Po, dell'esondazione del Po e ci eravamo dovuti stringere in tre. E forse qualche scodellino, riflettendo bene, l'ho ciuffito a qualche vicino di banco. Ecco, si è mai fatto uno spinello? No. Ha mai per curiosità provato una pillola di Viagra? Non ancora, ma l'età comincia ad essere avanzata. Eh, quindi vuol dire che ha una vita sessuale molto attiva? No, vuol dire che sono abbastanza sano, anche da questo punto di vista, ma ovviamente gli anni passano e si vede anche dal colore dei capelli. E quindi cosa mi dice di quegli uomini, magari della sua età, che vanno con le ragazze di 20 anni e hanno un amante di 25? Non dico niente di male, perché questo è sempre avvenuto e avverrà sempre. Il problema credo che sia soprattutto delle ragazze. Non è stufo di far politica a Borghezio? Di far politica, diciamo, alla Borghezio no. Se mi dovessero, o riuscissero, a normalizzare nel senso di obbligarmi ai comportamenti, diciamo, del politicamente corretto, li saluterei e andrei finalmente a godermi un periodo di meritata tranquillità. Ma non crede che gli italiani siano stufi di Borghezio? Ma gli italiani sono enormemente stufi e hanno perfettamente ragione di politici ladri, ipocriti, falsi, mafiosi, e tutto quello che ci vorrebbe il vocabolario vicino. Ma di Borghezio no? Borghezio quindi non credo che possano essere stufi, perché non lo vedo in queste caselle. È ancora convinto della superiorità del popolo padano? Beh, questo non l'ho mai detto. Certamente i padani hanno molte caratteristiche positive, in alcune cose eccellono, nell'accume politico no, altrimenti non manderebbero tutte queste tasse a Roma. Ecco, infatti, la domanda che mi seguiva era questa. Non è che i padani in realtà sono dei coglioni perché pagano più tasse degli altri? Nella domanda c'è la risposta. E la Lega dovrà riuscire a infrangere questo tabù che non pagare le tasse non dovute o comunque eccessive sia qualche cosa di male. È un nostro diritto, lo diceva il vecchio Toro, e abbiamo avuto per nostra fortuna un grande maestro, il professor Miglio, che dalla sua saggezza di grande patriarca politico e di grande scienziato della politica ci ha insegnato che disobbedire a uno Stato che ci succhia il sangue e che pretenda a noi molto più di quello che è dovuto non è male. Mi dica la verità, parole come macro-regione, 75% delle tasse in Lombardia, Padania, sono tutte cazzate elettorali? No, sono espressioni diverse di una verità unica. I diritti dei popoli sono sacrosanti e noi da sempre facciamo la stessa battaglia, quella per la libertà del nostro popolo che oggi vogliamo estendere anche giù oltre la linea gotica dove c'è tanta gente ben pensante, incazzata quanto basta, delusa dei vecchi partiti, insomma la stessa gente che all'inizio ha votato al nord per la Lega. È la stessa gente. Onorevole, visto che voi della Lega siete per la regolarizzazione della prostituzione, lei mai stato con una prostituta? Beh, penso come tutti gli uomini diciamo che hanno superato i 18 anni e qualcuno anche più giovane. Poi lei capisce benissimo che appartengo a una generazione nella quale non c'è la libertà sessuale di oggi, quindi alla nostra epoca trovare una nostra coetanea a 18-20 anni che l'hadesse era molto difficile. Quindi da giovane sì, ma oggi? Oggi no. Quindi da giovane sì, ma oggi no. Va bene Borghezio, io la ringrazio per essere stata alla nostra trasmissione. Ha detto tutta la verità, l'ho vista sincera. E penso di essere riuscito a fare una trasmissione a cui non seguiranno denunce. E quindi gli avvocati delle associazioni Rom un saluto cordiale. Ecco, questo è il saluto di Borghezio, invece il mio saluto è alla prossima puntata. Arrivederci.